Buongiorno mister, Simone Praia e Zettino. Abbiamo appena finito le rifiniture, ci fa il quadro della situazione, convocati, come sta la squadra in generale? La squadra sta bene, la squadra si è allenata bene anche in settimana, poi la pioggia ci ha un po' condizionato in un giorno di allenamento, però complessivamente la squadra si è allenata bene, ha recuperato bene, abbiamo fuori sempre Baldini, per il resto siamo tutti a disposizione. Pavana ha avuto un problema alla caviglia, ma si è risolto, sta bene, quindi è convocato. Buongiorno mister, Cicino Carlo del Corriere del Veneto. Ciao, buongiorno. L'altra volta ti è stato chiesto se sapevi dei record che potevi raggiungere, ora immagino lo sai, domani c'è la possibilità di scrivere proprio un record storico per la società. Senti un po' anche questo potere, avere questo vanto, oppure è una cosa che non ti tocca troppo? Io penso alla partita, io penso a cercare di vincere la partita, poi è chiaro che come ho detto anche la settimana scorsa i record sono fatti per essere battuti, quindi ci sarebbe un motivo in più di orgoglio a vincere una partita che sarà una partita difficile contro una squadra, secondo me una delle più forti della categoria, però credo che sia un banco di prova importante, al di là dei record che è logico che tutti noi vogliamo cercare di batterlo, anche personalmente mi farebbe piacere, ma cerco di concentrarmi di più sulla partita e cercare di portare a casa i tre punti, come sempre, ripeto, contro una squadra forte in un campo non semplice, però insomma siamo pronti a dar battaglia, poi come sempre vedremo, attireremo le righe a fine partita. Ciao Edoardo, Diego Ziggio, mattino di Padova. Restando sul tema, poi insomma lo tiriamo da un po', ma è chiaro la partita la prepari allo stesso modo e l'imperativo è comunque quello di vincere. Vi trovassi all'ottantesimo però sul pareggio, influisce sapere che hai un primato davanti, voglio dire, cambierà minimamente l'atteggiamento? No, non cambierà l'atteggiamento, noi cerchiamo sempre di vincere anche fino al centesimo, questo è quello che dico ai ragazzi, cioè la mentalità deve essere quella, cercare di provare a vincere tutte le partite e poi è chiaro che se poi alla fine uscirà un pareggio lo accoglieremo bene comunque, però la mentalità è quella, cioè la nostra forza è quella, cioè cercare sempre di rimediare se andiamo sotto, di non mollare niente fino al centesimo minuto finché l'arbitro non fischia, poi una volta che l'arbitro fischia accettiamo quello che sarà il risultato, però la nostra forza è quella, dobbiamo mettere in campo domani ancora di più. Ecco Claudio Foscarini che ha fatto la storia di questi colori diceva che il segreto per andare avanti e la continuità è vincere e dimenticarsi tutto subito, partire da zero però non proprio da zero perché ogni vittoria dà una maggiore consapevolezza e questo è il segreto. Sì sì, si vede che sta invecchiando quindi diventa saggio, no no però è la verità, insomma l'abilità delle grandi squadre, delle squadre che vincono anche al massimo dei livelli e che sono bravi a far questo, cioè una volta che vincono una partita già pensano come vincere quella successiva, fino adesso è stato così, dobbiamo cercare di continuare a farlo, è sempre un discorso di mentalità, di testa, perché la difficoltà è inconscia, è mentale, è quello che ci siamo detti qualche partita fa, insomma quello di cercare di dare continuità è un discorso soprattutto di testa, in queste partite siamo stati bravi a farlo, dobbiamo continuare perché il campionato non siamo neanche ancora alla fine del girone d'andata, il campionato è molto lungo quindi dobbiamo cercare di far punti, cercare di sfruttare questo momento che è un momento buono, però per vincere le partite non è semplice, quindi ci sarà da tirarsi sulle maniche, ci sarà da lottare su ogni pallone come sempre, questo è il discorso, quindi do ragione a Foscarini e sono d'accordo con te in quello che dici. Da questo punto di vista ti chiedo durante la settimana anche come hai percepito il gruppo, ce l'hai visto magari un po' sazio oppure li hai visti sempre carichi, motivati come se fosse la partita più importante domani? Il gruppo è carico, poi è chiaro che se lo vedo sazio deve essere compito mio cercare di riportarli un po' con i piedi per terra, ma non mi ha dato questa sensazione, ripeto, poi alle volte è una cosa un po' inconscia, però in settimana sono allenati tutti bene, mi fa piacere, mi fa piacere che chi entra stia dando il suo contributo, dopo mi dispiace per quelli che in questo momento magari devo lasciare a casa o sono più penalizzati, ma sono parte di un gruppo, il calcio è fatto di momenti, è fatto di scelte e devono essere bravi a lavorare come stanno facendo perché vedo che tutti sono coinvolti, tutti si stanno impegnando e aspettare una chance. Davanti c'è un Modena che è una delle realtà più belle di questo campionato, al di là dell'ultimo stop, vedendo le ultime statistiche, in casa ha affaticato, ne ha perso tre delle ultime cinque mi sembra, come te la leggi questa cosa e comunque che squadra ti aspetti poi? Mi aspetto una squadra, è una squadra molto solida, una squadra molto compatta, una squadra che sta facendo bene, ha giocatori di grande qualità perché davanti ha giocatori importanti, in mezzo al campo comunque ha giocatori importanti, hanno recuperato quasi tutti, a parte Gerli, quindi il fatto che abbia le ultime tre partite perse in casa, cioè le ultime tre su cinque, questo non mi preoccupa perché io ho visto un po' di partite del Modena e vedo che una squadra ha perso male forse con la Sampdoria, però per il resto le altre partite sono sempre giocate, viso aperto, sabato ho visto la partita con il Coma, hanno perso immeritatamente, quindi ripeto, è una squadra organizzata, bene organizzata, una squadra che lascia pochi spazi e ripeto, ha grande qualità soprattutto dalla tre quarti in su. Ripeti sempre che tra virgolette da temere di più è la tua squadra, insomma i tuoi giocatori, questa squadra sta stupendo anche te, sei al di là magari delle tabelle che avevi previsto internamente dentro di te, oppure c'è ancora tanto da poter migliorare? No, c'è tanto da migliorare, si può migliorare, si può fare molto di più, ma glielo ho detto ai ragazzi, ne sono consapevoli, però è chiaro che mi fa piacere ad essere a questo punto, a 28 punti, magari avendo cambiato così tanto all'inizio dell'anno non me lo sarei aspettato, però l'obiettivo era quello, cercare di vincere più partite possibili, adesso sta avvenendo, questo perché si è creato fra di loro un'alchimia un po' particolare, stanno bene insieme, vedo che tutti sono partecipi, questo mi fa piacere, e questo, credo che i risultati siano frutto soprattutto di questo, poi è chiaro che c'è un gioco, c'è un modo di affrontare le partite che comunque per il tipo di squadra che abbiamo allestito è ideale per le caratteristiche dei giocatori, loro l'hanno appreso bene anche velocemente e quindi i risultati non credo sia un frutto del caso, però ripeto c'è un gruppo importante, c'è un gruppo che lavora bene insieme, che sta bene insieme e questo fa la differenza. E dove c'è da migliorare perché c'è una via questo dove si cresce? C'è da migliorare quando abbiamo la palla noi, in fase offensiva possiamo fare molto meglio sicuramente, poi adesso un po' dietro siamo riusciti a limitare un po' di più, prima prendevamo troppi gol, le ultime partite siamo riusciti comunque a prenderne meno, a chiudere delle partite senza subir gol, su certi aspetti stiamo migliorando, ma ripeto quando abbiamo la palla noi secondo me possiamo fare molto meglio, anche per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, ci stiamo lavorando, dobbiamo insistere, però questo è secondo me l'aspetto principale. E' una domanda che ti faccio qualche volta, mister, perché sabato scorso sono arrivati due gol sulle palle inattive, domani c'è una squadra forte sulle palle inattive, hanno soprattutto Zaro che è un gran saltatore, potrebbe essere un punto chiave della gara di domani, magari sbloccarla con un episodio di questo tipo? Sì, sì, lo è stato l'ultima partita, l'ultima partita abbiamo vinto grazie a due calci piazzati, loro è una squadra che ha una buona fisicità, hanno dei giocatori che calciano molto bene, perché fra Tremolada, Manconi, Palumbo, tutti i giocatori che hanno un gran piede, sicuramente è una squadra che ha fatto dei gol su calcio piazzato, quindi è una squadra da temere sotto quell'aspetto. Posto che i bilanci li facciamo a fine di non è andata, come hai detto più volte, comunque questo si può leggere come uno scontro diretto, insomma alla fine sei a più due, potresti andare toccando Ferra più cinque e comincia a essere... Sì, la classifica dice questo, è chiaro che i punti contano come con la Feralpi, come domani è uguale, sono sempre tre punti, è chiaro che se riuscissi a vincere come hai fatto l'ultima partita con Cosenza, comunque Cosenza l'ha distanziato di nove punti, quindi è chiaro che sono scontri importanti. Per noi vincere a Modena sarebbe un ulteriore segnale di crescita e di maturità, perché ripeto giochiamo contro una squadra forte su un campo non semplice, ci sarà tanta gente, quindi sarà una bella partita da affrontare col piglio giusto come stiamo facendo le ultime. Bene, mister, bocca al lupo e buona trasferta. Grazie, crepi il lupo.